Arbitro di Kirchhoff, Galler, elegante palleggio di Moscoso, che si trascina la palla in area. Tunnel in danno di Kals, Moscoso, il gol, un bel gol davvero per Moscoso. Al 45esimo Moscoso ha segnato per il Cile. 4-1, rivediamo dopo un palleggio elegante, c'è il tunnel in danno di Manfred Kals e il violento tiro diagonale che batte Schumacher. 4-1, primo piano doveroso per Moscoso, che ora rivediamo nella sua prodezza personale. Il tunnel e il tiro di sinistro. Gioco già ripreso.